Dovrebbe esserci oggi la Commissione in Comune per parlare del problema del Cinema Nuovo, anche se non vogliamo entrare in quelle che sono trattative private, però è comunque un presidio culturale per la città. Sicuramente il Cinema Nuovo è un presidio culturale, è vero che è un luogo privato, però è vero che è anche un luogo, non è l'unico cinema del centro città, è un luogo nel quale vengono fatti eventi di carattere pubblico ed è un luogo nel quale vengono proiettati dei film su temi che inducono molto alla riflessione, sui temi della vita, della politica, del mondo. Quindi crediamo che proprio per questo, proprio perché è un cinema con degli aspetti e con una gestione particolare, che vada fatto ogni sforzo per evitare che venga sottratto alla città. Sono qui perché mi interessa avere alla Spezia un posto dove si fa cultura e la cultura si fa al nuovo, perché i gestori sono delle brave persone e noi abbiamo trovato il posto dove andare, al cinema al nuovo. Io sono qui per vari motivi, intanto perché sono un'appassionata di cinema, fin da bambina, perché abitavo a Marola e frequentavo la società di mutuo soccorso che curava particolarmente la parte della cinematografia. E anche come insegnante, perché ho sempre utilizzato i filmati a scuola per veicolare argomenti che spesso attraverso un film sono resi molto più semplici anche per i ragazzi. E mi risulta che il nuovo continui anche adesso a fare molti mattinè proprio per le scuole. E credo anche che sia un centro veramente di cultura anche per il tipo di filmati che vengono proposti. Sono a difendere quello che considero un presidio culturale per la città. Non è un cinema e basta, è uno strumento che fa girare la cultura, perché grazie al fatto che c'è il nuovo si è riaperto il circuito cinematografico anche dell'Odeon, dell'Arsenale, a Carrara del Cinema Garibaldi, alla storia di Lerici, perché il nuovo rappresenta anche questo, il pezzo di un tessuto culturale che offre alla città la possibilità di vedere dei film di qualità.